Concerti, spettacoli teatrali, arte, cinema, percorsi naturalistici. Variegata è la proposta per chi si trova in città nella settimana di Ferragosto, con gli eventi dell'estate a Napoli, la musica del Forum delle Culture e le attività di alcune instancabili associazioni culturali del territorio. Alla Rotonda Diaz ogni sera proseguono fino al 15 agosto i concerti gratuiti dove si esibiranno fra gli altri Peppe Servillo, Marzuc e Marwan, Marcello Collasurdo e il DJ Gorillaz. Nel convento di San Domenico Maggiore, dopo il successo della mostra Impossibile, è ora la volta di Capolavori in Dettaglio, col contributo di 20 storici dell'arte che illustrano 117 opere di Leonardo, Raffello e Caravaggio e coi modellini di alcune delle ingegnose macchine inventate da Leonardo. A Ferragosto il complesso di San Domenico resterà aperto fino a mezzanotte, alle 21 nel Chiostro si terrà un concerto di musica dell'anima con Giulia Capolino e la sua band. Nel cortile del Maschio Angioino ogni sera una proposta diversa per la rassegna Ridere con spettacoli comici e di cabaret. Da giovedì a sabato alle 20 partenza a Mergellina per i Tramonti in musica sul Batomouche, un suggestivo giro della costa cittadina accompagnato da un concerto di mandolinisti. Dal 18 agosto nel convento di San Domenico la rassegna di teatro Classico d'estate che si aprirà con lo spettacolo Riccardo III, preludio alla tragedia. Ai colli a Minei, al Parco del Poggio, prosegue ogni sera il Festival di Cinema all'Aperto Accordi e Disaccordi. Immersioni subacquee, esplorazioni in kayak, visite al magnifico parco di Pausilipon e al Parco Sommerso di Gaiola, ogni giorno su prenotazione a cura dell'Associazione CSI Gaiola. Musei aperti a ferragosto secondo l'orario estivo consultabile sul sito del Comune di Napoli. Per tutto agosto ingresso gratuito al Museo Madre d'Arte Contemporanea.